Gli scatto la foto in bocca, non si stanna Guarda, dopo sto video l'ho quitto, sto gioco, non ci gioco mai più Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89 Prima di iniziare questo video vorrei ricordarvi che abbiamo un server su Discord Il miglior programma di comunicazione vocale sulla faccia della terra Unisciti anche tu alla comunità AceGamer seguendo questo link Discord.gg slash AceGamer Su The Seat non ti puoi fidare proprio di nessuno Ma nessuno, nessuno, eh Oggi sono in compagnia di Chrysnes, Kronox e Samux Siamo qui per giocarci insieme, il premade più fiero dell'universo Scusate, scherzo, non so neanche ancora a convincere Scusate, ieri, 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 ieri Chi sarà a marcio sto Ciro? Chi sarà a marcio sto Ciro? Dove faccio sempre sul bagnato? Innocente Stavolta sono innocente veramente Sì sì Non ci credo Non ci credo Oddio è lago Secondo me Cronox è infettato Secondo me invece Samox è l'infetto No no potete anche scannerizzare Io non sono infettato Il primo che trova lo scan è scansione a zero Ecco lo scan No 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 Merda l'ha rubato L'ha rubato quel testa di cazzo Godfather Hey Godfather What? Did you grab the scanner? No Who has the scanner? Scan someone come on Scan Cronox Scan me Scan me Scan me Scan me Oh io Ha visto l'indocente Normal Normal Crysis is normal Crysis is normal Oddio Ha tolto uno Ecco è Cronox La donna Non sono io Guardi 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 Io non sono Sì sì Occhio the godfather che è andato dove una leva è già tirata mi sa Occhio Oh e si spetta la luce Lui era lì vicino Oh no bestia Sono queste che ballette Ah io so questo Sì ma ci conviene stare qua Secondo me è Cronox Secondo me è Cronox Non morite nel gas magari Sto cercando di prendere più munizioni possibili Vabbè Crysis so che è innocente Il che è più del testo Dai trova quanto scanner Quello Ma ce ne so ancora di scanner Quello che ha scansionato probabilmente è sano anche Zeb ha tirato la leva quindi Ecco È apposito Eh dai Più che altro io non ho sentito bene sangue Secondo me Cronox Se ne va sempre per fatti suoi Eh ma infatti puzza secondo me Se lo buttiamo Ammazziamo godfather dai facciamolo Dov'è Dai Sul dubbio dai Vai Dov'è Dov'è You're infected you maggot No I'm not infected You see Ma ora è andato Ok qua c'è l'uscita Io ho una fotocamera e non ho paura di usarla Ma ce l'è anche io ce l'è anche io No io non ce l'ho Oh Paura Cronox puzza di clandestino Eh ho paura anch'io Nooo Non ce l'ho No 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 Non sai tu eh Oh Samux mi ha sparato Samux No 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 Chi è? Ma chi è? Non t'ho sparato io Come l'ho? Che pezzo di merda Non t'ho sparato io Mmm Quello Allora quello senza maglia è Cronox L'altro mi ha sparato Mmm Quello senza maglia Sto pensando male io Oh No Infatti Mi sa che l'infetto ha scansionato l'altro infetto Eeeh Mi sa anche a me perchè mi ha sparato Eeeh Anni modo tra poco lo sapremo perchè è l'ultimo round Eeeh E' il siero Aspè fammi vedere cos'è Il siero Si ma No 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 Quello Quello lascia stare Si lascia Nooo Ammazzalo Lo usiamo su di lui No 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 Io ti sparo se t'avvicini No Chrysnes è sospetto No no Chrysnes è sospetto No no bestia Guarda E' lui No no io sparo a Chrysnes No no E' lui Ammazziamolo Ma perchè? E' lui Chi è che mi ha sparato? What t'ha fatto? Hai preso il veleno E' troppo sospetto Me l'ha aperto il tizio Che dovevo fa? Io mi levo dal cazzo Ma stai Ma stai No Che è sto rumore? Madonna che ansia No 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 Vedi che non ero io Fuori fuori Sii Si era Cronox Era Fuori Sono uscito Cronox E' rimasto dentro E' rimasto Cronox Nooo Noo vaffanculo Oddio Oddio chi è che Noo non era infetto Cronox Eh l'ho detto Ma chi è? Era Hypentos Si ma Era Hypentos Oddio Chrysnes non c'è Ma Chrysnes è l'infetto? Si ECCO Dai ti sei lasciato fregare Se l'hai preso il letale Quando hai preso il letale ho pensato ECCO Che mi ha scansionato era quello con me Eh vedi vedi ho indovinato Ho fatto ecco Allora vediamo un po' sto giro chi è Marcio No se perdo anche in questo giro disinstalla il gioco Stavolta è Samox No no perché io Madonna guarda La pistola che sbaglia Guardi qui quando uno fa la scansione se ti metti vicino a quello che sta scansionando tu non lo puoi vedere Innocente di nuovo No mi sembra di no Mi sembra di no Sono innocente di nuovo Io sono innocente Anche io Anche io Eh tutti Io sono sicuramente quello più improvabile Viste che S'ho appena stato Ma per me mi penso che anche scandalizzare Cosa c'è qui? L'antidot Ah ti ho aiutato a prenderti Ma l'antidot cosa fa? Eh mi sa che rianima Quando uno viene abbattuto a terra lo puoi rianimare Dal mostro puoi rianimare con l'antidot Oh la leva tu? Ok ho capito Dai dai prendete lo scan e le scannizia Dov'è lo scan? Ah il tracker Sto prendendo il tracker Diesel AFK 3rd Aspetta mettiamogli lo scan Il tracker Se si muove si sa male Ah io però sospetto che siamo tutti innocenti Perché nessuno sta andando a prendere il sangue di noi Nessuno sta Ma è impossibile Almeno uno ci dovrebbe essere O uno è quello fermo Per dire Si si ma Prendete lo scanner E se fosse diesel Si ma dov'è lo scanner? Eh boh Oh che cazzo Cazzo Ad aiutarti per cosa Ah qua cosa c'è dentro? La scanner Oddio si è trasformato qualcuno Chi chi è? Due diesel e un altro Sono quelli? Si mi hanno fatto fuori in due Nooo Ammazziamoli No che cazzo Mi hanno sparato Dove? Da dietro mi hanno sparato Stava rianimando chi c'è? C'è questo con gli occhialini? Non sono io Sono io Sono io C'è il mostro Cazzo Aiuto Dai Ho finito le munizioni Ho finito le munizioni No no sono vivo Cazzo è cazzo è Non so perché ma sono respawnato E' Chrysnes il mostro Si E' Chrysnes Mi ha ucciso Chrysnes ho visto Ma come? Sono bloccato guarda Oddio è sottoterra Allora voi sei buggato C'è Samux sottoterra C'è il mostro No io scappo Ciao C'è il gas Che vuoi? Ho tipo un radar nella slot 3 ma non me lo fa mettere Ok mi posso muovere Corri 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 Nooo Madonna Sono morto dal gas Ma il gas non ti dovrebbe poi far perdere la vita No hanno parciato hanno cambiato hanno fatto che si arriva a zero No hanno fatto che dura di più ma se scende tutto crepi L'unico modo per vincere è questo ragazzi di rimanere da solo Zeb è morto per rimanere lì a guardare me bloccati Cazzo Sii Ah ok l'uscita è dall'altra parte Siiiiiiii Madonna Come deve lancare Ma che cazzo You're gonna die Innocente 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 Si nuovo Ecco Io è sicuro che sono innocente Sicuro sicuro 3 volte nessun giova Ecco ora di nuovo Chrysnes No me lo rubano Mostro Eh no però L'ha preso Samux Secondo me Samux è infetto No io ti scanno ora Eh Dai scanna Scanzionami Scanzionami dai Ora mi ammazzano perché mi accusano Non sono infetto dai Mmm Secondo me è Samux allora È Samux No perchè No non è Non è Zeb ti difende Secondo me è Chrysnes di nuovo Eh Da come si componde No No Io ti sparo Levati dalla porta Chiunque tu sia Ma Secondo me è di nuovo Chrysnes Ma è impossibile No 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 Io ho la macchina fotografica in mano Quindi Ho sentito qualcuno bere Vaffanculo Chi è questo? C'è uno davanti a me Chi è? No non so io Mi sono con mister pigiama qui Madonna oh No gas Dov'è l'uscita? Io sospetto Chrysnes No perchè io Anche io Sì sì Era lui Sì 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 di qua Che si aiuti Sì sì di qua Non è vero Eh sì Mmm Guarda che è Zeb Oppure questo Aspè aspè Oh Chi lo sa Forse Chrysnes No io sto tirando le leve Sarebbe controproducente Eh è una tattica Eh per perdere Tu sei passato vicino a una leve e non l'hai tirata Come mai? Io sto a prendere le munizioni a terra Eh quindi lasci le leve No no Eh sì sì Questo l'ha appena attivata Ecco L'indietro di te hai lasciato le leve Oddio ma è lag Madonna È dietro di te Guarda quante leve Tutte da tirare sono È impossibile Guarda Tutte da tirare È Samux È Samux L'ho visto bene L'ho visto bene Hai visto? Sì perché gli ho messo il track Eh fregato Eccolo È Samux È lui È Samux Eh si è trasformato No Aiuto Si è trasformato Si è trasformato Si è trasformato Mestia Madonna No No Ora mi ammazza Lo vedo lo vedo L'ho visto Sta andando all'uscita Un'uscita No 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 Ammazzatelo Per un millimetro Se l'ha bloccato Se l'ha bloccato No se muoio mi incazzo però eh No 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 È da votare Samux Non l'hanno votato No È Samux No muoio per forza eh Mi sei buggato Oddio mi sono salvato per un pelo È Samux ammazzatelo Quanto muoio del gas Quanto muoio del gas Ma quindi è Samux Sì Sì Ma ora è Samux No Samux Madonna Voi non potete capire Non mi ha ucciso per un millimetro Dove vedi i cronox? Ora ti metto questo Occhio No è lui È cronox No È cronox No No Qua che merdoso È cronox 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 Lezzo Madonna che merdoso No Ma ha ammazzato tutti No Madonna Ha vinto Ha vinto Ho ucciso tutti Ne ho ammazzati tre Mamma mia Mamma mia Oh no È normale Innocente È normale È innocente Troppa ansia È infetto Innocente Eh che stavolta Di nuovo cronox è quando Lo prendete No no Secondo me cronox di nuovo No non sono io Oh Christ Per forza Christ No cronox dove sei? Aspetta dove sei? Trovo munizioni Cazzo Ah è lì che sta raccogliendo la mano Le munizioni Da su Ah ecco 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 Un G Eccole Potrebbe essere anche Zeb Certo Sì Vabbè è vero Scanna cronox che sennò mi fa manz di nuovo No ma non sono io Eh Guarda 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 Non sono io Scannalizzate per favore cronox Ehm 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 Eccolo Dove dove? Ok L'ha preso allo streamer Scan Samox Scan Samox Scan me Scan me Scan me Scan chronox Ah ha scansionato me Ha scansionato me Sono pulito Is he clean? Is he clean? Is he clean? Eh mi avrebbe sparato ha messo la macchina fotografica Ehm Oddio no! Sono... Sono come... Via via Seconda me che si stanno aiutando a vicino Ma io sono arrivato lì per cazzo Chi cazzo è questo che si è trasformato? Noo chi è? Chi è? Noo Facci il tempo a vedere chi fosse No 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 Oh sono con il twitcher io Sono a terra io Noo chi è? Chi è infetto? Non avete visto chi è? Il twitcher non è che la come Non lo so forse è Zeb Forse è Zeb Rianimatemi Oddio Dove sei? Eh non lo so dove sono E' qua 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 Perché mi spara? Mi sa che lo stream mi sta sparando No no Lo stream è con me Twitch tv è con me Mi sta sparando Oh che cazzo vuoi? E' qua Mi sta sparando So' entratto nel cancello e ha cominciato a sparare E' qua E' qua E' qua E' Zeb 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 E' te E'ルク E' le streamer E' le streamer Chi E' zeb E' zeb Che scappa E' zeb Raga Eccolo Si è trasformato Occhio Eh si è Zeb È Zeb è Zeb Un altro da dietro Aiuta È Zeb raga È Zeb Guarda che non parla nessuno Madonna che è che il mostro RANZ Lo streamer è schiattato È schiattato anch'io Maa 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 Vieni Zeb vieni Maa 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 Abbiamo vinto No ce ne manca uno No No Zeb era troppo sospetto Ma l'avevo detto Non potevo fare diversamente Due volte Ma Chrysler si è fatto RANZ da dietro proprio Dai Innocente Innocente Bene Innocente Usa il coltello con F Dai Si ma è munizio You're gonna die Se devi abbassare usare F E' cazzato Are you serious? Dai cosa hai preso? No io voglio fare È infeccio Chi? Not bad qui Uccidi Nooo Si è trasformato Si è trasformato Sta scappando Vai No è vicino No dove è la foto? Vai l'ho atterrato eh Vuotate Come si fa? Beh vai Ammazzatelo Dove sta? Scappate dal gas se no morite No ora muoio guarda Eh però se l'avete atterrato Cronox La leva Puzza Cronox Eh sarà o Samox o Cronox Ma come c'è io? La tinta me l'ho fatta uccidere Ah sarà Samox Secondo me Samox è quella Oh si è Madonna sempre mi hai pensato Prima mi ha ucciso Sì ma qua c'è una doppietta Mi sta sparando E' coso gad Si è lui Madonna Si ammazzatelo Eh non ho munizioni Io non mi ha ammazzatelo No Dai spara Se non spari vuol dire che sei colpevole Raga ma non c'è l'altro Eh non riesco Fai C Abbassati CTRL Guarda guarda non l'ho fatto Secondo me è Samox Si è Samox E' lui Si si è lui Uccidetelo Uccidetelo Not bad L'abbattuto No perché io L'abbattuto Uccidetelo Beh è una tua volta No non si può Ora mi fate morire se questo Oh Si è trasformato qualcuno Zeb occhio Via Chi è che sei trasformato Ti segue Ti sta seguendo Chi è che è trasformato Sta seguendo Zeb NO via 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 è not bad via via degli infatti 1 2 1 si col cazzo scappando ben non è perché l'inseguita perché c'è l'ailo meno che fa perchè non parla da dove sto scappando da questo bastardo appinguto è il problema e con la stona cala un'estima è la sua assurma a fomisca estensione oddio sono riuscito a scappare bene canzionale benedezza Eh, dove sei? No, è chiuso qua. Cazzo, apri. No! Eh, muoio. Muoio, vai, ciao. Ecco, quindi sei levato da mezzo all'inferto. Salì, 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 salì! Salì, salì, salì! Vai, vai! Vai, ce l'ho fatto. Nooooo! Oh, io sono arrivato alle scale e mi ha ammazzato lo stesso. Per un centimetro! Sono morti tutti gli infetti, credo. Sicuri? Zeb? Chi è rimasto in vita? Io? E basta, son morto io. No, mo se ne... Ma io... Voi nel video, vedrete, non ce l'ho fatta per un millimetro. Ma per un millimetro! Di righello, ero lì! Io ero sulle scale, son morto, ero sulle scale. Povero Zeb. Ehi, Coro! Ehi, Coro! Ho c***o di che tal? Io sono JP. Non spingere in inglese! Cazzo? E per questo ti uccidrò. Il tuo gioco finisce qui. Vuoi morire? Ci diamo? Zeb, vieni qua! Vai, vai, vai. Camera, camera! Oh my God! Vai, vai! Vai, Coro! C***o! C***o! Io metto il traitor su zero! Chi diamo Crystness. Ammazziamo Crystness. Vai, dai. No bastardi non potete sparare a casa Vai Chrysler Non sono io Hai detto che si è trasformato qualcuno No non è vero Ma come non è vero Mi spara Mi spara Mi sparano Mi spara Si stanno sparando tutti a casa Mi sa che è Orange Mi sa che è Orange Ma non ho le munizioni No è vero Hai iniziato a sparare Certo No ma è colpevole Solo che non ho le munizioni Mi dici cosa c'è scritto davanti a questa sacca di sangue In che senso Dove sei? Mettiti qua davanti e dimmi che è scritta ti comparto Si era da me Dove sei? Ecco me Si vuole incolparmi guarda È Cronox allora Perché al nostro non dice la scritta che esce agli innocenti Vuole incolparmi Oh qualcuno ha bevuto Ho sentito bere Per me è Chrysler Si è Chrysler Ha bevuto davanti a me è Samux è Samux È Samux Non sono io Non sono io Ha bevuto davanti a me Io sono a terra perciò non posso essere io Non sono io Si mi stava connesso Non sono io È Chrysler perché è un ceppo? Perché è un Cristo in croce? Non sono io È Chrysler secondo me Ma perché mi avete ucciso? È Chrysler Ma se ero a terra Ma se che va? Cronox ammazziamo Chrysler Chi è che mi ha curato? Ammazziamolo Se no ci ammazzo No Oh Incredibile Ora ora Incredibile No È lui Che caccia fa? No Ma c'è uno qui? No Eh ora siamo solo noi due Quindi Ora se Chrysler è infetto Mi cazzo È Chrysler No 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 E ancora mi ammazzo Ah fai Fate quella cosa Chrysler vai davanti a un sacchetto di sangue E digli che è scritto Compar Ok Versa la sacchetta No no Andate tutte e due Non mi dire che è lui Perché mi cazzo Se non ti sa dire cosa c'è scritto È lui Eccolo È lui Te l'avevo detto E dai Ho tirato la co Bestio Ah 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 Come avete visto Non ci si può affidare di nessuno Un resoconto Fate attenzione a chi avete intorno Ad ogni modo Devo ammettere che Come tanti altri giochi È più divertente Se giocato in gruppo Troverete i link Ai canali Dei miei colleghi Nelle schede E anche in descrizione Noi ci becchiamo Come sempre Al prossimo video No sto gioco Comunque è un barile di merda Cioè i scatti la foto in faccia Non si stanno Sì Ma il flamerate Ma mi è uscito Un aggiornamento Dead by Dilett Adesso Sì è piccolino Una merda Ho cambiato il font Sì è piccolo Sì è piccolo Sì è piccolo